E' uno dei pochi esemplari in Italia, un macchinario di ultima generazione e dalle ottime prestazioni, caratteristiche che hanno incuriosito alcuni imprenditori coreani che hanno deciso di raggiungere l'imbadi paese del Vibonese per ammirare da vicino la macchina selezionatrice di uova prodotta dalla CIMEC di Bordenone. E non poteva ricevere conferma migliore l'imprenditore Maurizio Soldano che ha accolto nella sua fabbrica di uova la delegazione di coreani, ad assistere al tour giornalisti e tv che hanno raccolto le prime impressioni di Hong Yoo Yang, rivenditore di prodotti avicoli, leader in Corea del Sud. In Italia ce l'abbiamo solo noi dovuto vederla perché la devono poi presentare per la distribuzione lì in Corea. Da precisare che questo impianto è stato finanziato con il PSR della regione Calabria. Giudizio estremamente positivo che per una volta fa parlare di l'imbadi per fatti positivi. Il modo in cui viene passata l'aria, viene raffreddato l'ambiente è unico nel suo genere. E non c'è che andare orgogliosi. Alla visita anche il primo cittadino Giuseppe Morello, orgoglioso della sua piccola realtà, dove non mancano i buoni esempi di imprenditori di successo.